Signori buongiorno e bentornati sul canale del Master Kai. Io sono il Master Kai e il vostro ospite su questo canale. In questo periodo per la rubrica del D20 System abbiamo cominciato a vedere le regole del combattimento, della mischia e degli scontri, quindi mi sembra appropriato che nell'arte del masteraggio si vada a parlare in linea più generale degli scontri e di come i combattimenti vadano a influenzare poi la narrazione e il racconto collettivo che è la quest. Un master con un minimo di preparazione e qualche trucco può fare in modo che i suoi racconti diventino molto più interessanti grazie agli scontri e che questo serva a intrattenere meglio il suo pubblico o ad ammazzarlo naturalmente. Il modo più ovvio in cui i combattimenti influenzano la narrazione naturalmente sono i danni, le ferite e la morte che questi causano sia per i personaggi e i giocatori sia per i png del master. Ma di questo mi sembra aver parlato più che a sufficienza nella serie di video che ho fatto sulle ferite e la guarigione qualche mese fa. Se ve li siete persi vi lascio il link da qualche parte magari anche in descrizione andate a riprenderveli così partiamo tutti a una base dello stesso argomento. In questo video invece non voglio parlare tanto delle conseguenze che hanno gli scontri ma di vedere proprio come gli scontri e i combattimenti veri e propri possono essere utilizzati per migliorare la narrazione, migliorare la storia. Ovviamente l'impatto principale che il combattimento può dare alla narrazione è la narrazione stessa del combattimento. In base a come il master descrive le scene di combattimento, descrive i nemici e a come i giocatori descrivono i loro attacchi, la percezione che l'intero tavolo avrà del combattimento andrà a cambiare. Ad esempio se il master si concentra nel descrivere il rumore, le urla, l'odore del sangue, le amputazioni, il clangore delle spade, magari parlando con voce concitata, otterrà un impatto diverso dalla descrizione del combattimento rispetto al concentrarsi a descrivere la grazia dei movimenti o la mancanza di grazia dei movimenti, le posizioni di parata e di attacco e ponendo enfasi sul coraggio dei combattenti. Nel primo caso il master susciterà un senso di orrore, di angoscia, di paura e smarrimento durante il combattimento, se vogliamo un effetto, una resa più realistica di un combattimento. Nel secondo invece galvanizzerà i giocatori trasmettendo immagini di prodezza marziale e nobile scontro cavalleresco. Il master deve fare particolare attenzione a che stile vuole dare ai suoi combattimenti in base alle sensazioni che vuole suscitare nei suoi giocatori, come per qualsiasi altra descrizione deve essere regolata sull'effetto drammatico che si vuole avere per la quest. Un master potrebbe anche decidere di utilizzare stili diversi in momenti diversi alla narrazione, magari concentrarsi su uno stile molto più epico durante il combattimento contro il boss finale, ma essere molto più crudo e realistico quando i giocatori devono salvare l'abitante del villaggio dall'attacco dei demoni o cosa del genere. Quello che in ogni caso il master deve evitare di fare è descrivere le scene di combattimento come se stesse giocando a un wargame. Una descrizione del tipo il mutante avanza di tre metri e spara con la pistola al pg che ha davanti non trasmette nessuna emozione, non aggiunge niente alla narrazione, in realtà sarebbe più indicata per un gioco come battaglia navale che per un gioco di ruolo. Al di là però di come il master gli descrive, anche l'approccio stesso al combattimento può essere usato per trasmettere molte informazioni sia riguardo gli stessi png sia riguardo l'ambientazione in generale. Quanto un png o un determinato gruppo di png sia propenso al combattimento già di per sé fornisce dettagli sia sulla sua personalità, sia sul contesto culturale, sia sul modo in cui quel determinato png, quella determinata classe, quella determinata razza vedono il combattimento all'interno della vostra ambientazione. Se per esempio come classico del fantasy nella vostra ambientazione ci sono gli orchi che sono una razza ferocemente guerriera e bellicosa è molto probabile che un png orco estragga le armi alla minima provocazione, magari non per entrare realmente in combattimento, ma alla minima parvenza di insulto reagisca in maniera aggressiva e minacciosa. Al contrario se gli ignomi sono una razza particolarmente pacifica all'interno della vostra storia, un png ignomo probabilmente non reagirà violentemente dalla situazione, ma potrebbe rimanere anche aburrire del tutto l'idea della violenza, rimanere scandalizzato quando uno dei giocatori propone una soluzione violenta a un problema, per quanto pressante e urgente questo problema possa essere. Se fate reagire i vostri png nella maniera più appropriata, questo vi permetterà di fornire molte informazioni ai giocatori senza aver bisogno di fare delle effettive spiegazioni. I giocatori capiranno da soli che gli orchi sono una razza bellicosa e che il loro costume tradizionale prevede di risolvere con le risse qualsiasi tipo di controversia, senza che voi dobbiate fare delle lunghe e noiose digressioni in cui spiegate al tavolo la storia degli orchi, la mitologia degli orchi o cosa del genere. E questa è una cosa che vale sia per sistemi come il Diventi che hanno una preponderanza per le regole di combattimento, sia per sistemi che hanno regole di combattimento molto meno approfondite o sistemi molto più interpretativi, molto più recitativi, che magari non hanno neanche una specifica meccanica per risolvere i combattimenti. Nei giochi però in cui il combattimento è preponderante potete utilizzare anche la possibilità di personalizzare mosse, stili marziali, equipaggiamento e armature per enfatizzare la personalità o il background culturale dei vostri png. Un nemico diretto e brutale sarà costruito per comportarsi in combattimento, arrivare in combattimento il più velocemente possibile e infliggere la maggiore quantità di danni nel minor tempo possibile. Che si tratti di un orco specializzato nel combattere con un ascia a due mani che carica in battaglia urlando, che si tratti di un enorme mutante che si porta dietro una mitragliatrice alla trincea come se fosse un'arma d'assalto. Al contrario un nemico suddolo e calcolatore si focalizzerà e si equipaggerà per combattere dalle ombre, saltare fuori all'improvviso con attacchi chirurgici o ingaggiare i nemici dalla distanza con fucini di precisione o altri attacchi da cecchino. Potete usare anche stili diversi ed equipaggiamenti diversi per differenziare gruppi diversi di avversari però dello stesso tipo. Nella vostra quest di esplorazione spaziale gli umani che abitano in una determinata colonia magari preferiscono tattiche di guerriglia e ingaggiare i loro nemici da distanza. Gli umani che abitano in un'altra colonia invece usano fucili d'assalto e armature pesanti e caricano in combattimento il più velocemente possibile. Anche all'interno di uno stesso gruppo potrebbero esserci equipaggiamenti diversi o costruzioni del personaggio diversi per differenziare magari vari ruoli all'interno di un esercito o indicare i gradi con gli ufficiali che portano equipaggiamenti diversi dalla soldataglia. Ma quando i giocatori devono scontrarsi contro gruppi organizzati di nemici questo può essere usato non solo per fornire informazioni su quel gruppo i nemici ma anche per fornire informazioni sulla personalità e sullo stile di chi organizza quel gruppo i nemici su chi comanda i cattivi che molto probabilmente sarà la nemesi o uno dei principali antagonisti all'interno della storia che stanno andando a raccontare. Che sia l'antagonista finale della vostra campagna o che sia il nemico momentaneo che i giocatori dovranno sconfiggere in quella determinata quest, quando il oramai già più volte citato malvagio barone attacca con le sue armate il regno buono dei giocatori, come queste armate sono composte e come lui le utilizza in battaglia, dovranno trasmettere ai giocatori delle informazioni sul carattere, sulla cultura e sul tipo di strategia e personalità che caratterizzano il malvagio barone. Sarà un tiranno brutale le cui armate sono composte da contadini reclutati a forza nei villaggi male armati, male equipaggiati e portati in battaglia da cavalieri ultra pagati e ultra equipaggiati che si disinteressano totalmente della sorta ai loro uomini, usandoli come carne da cannone? Sarà un nobile ricco che ha soldato i mercenari più forti e spietati che i soldi possano comprare? Sarà un fine stratega che utilizza in truppe di elite in attacchi chirurgici a sorpresa per destabilizzare le armate del regno buono? Magari all'interno dell'organizzazione malvagia, dell'organizzazione degli antagonisti della vostra quest c'è più di un comandante e ognuno di loro si differenzia perché utilizza i suoi mob, i suoi servitori, i suoi minion, come volete chiamarli, in una maniera affine al proprio carattere, alla propria personalità, alla propria cultura o comunque quello che è rilevante, quello che volete trasmettere ai giocatori durante la campagna. E i giocatori, se state facendo un buon lavoro, dovrebbero riuscire a capire quale dei generali li sta attaccando soltanto vedendo il modo in cui utilizza le truppe per attaccarli. Diciamo che per questo video è tutto, mi sa che ho anche sforato molto i tempi, spero di avervi fatto capire quanto anche i combattimenti siano importanti per una buona narrazione, indipendentemente da quanto voi vogliate incentrare la vostra campagna sulla rissa, sulla battaglia o quello che è, e da quanto il manuale che state usando per quella campagna scenda nei dettagli e abbia delle regole più o meno rilevanti per gestire i combattimenti veri e propri. Naturalmente, come sempre, vorrei sapere da voi come fate a caratterizzare i vostri combattimenti o per quei tra di voi che sono solo giocatori, quante informazioni hanno capito dai loro avversari semplicemente vederli combattere. Io sono il Master Kai, noi ci rivediamo al prossimo video.